ma don mario sempre meglio te hai fatto un'iniziativa buona perché c'è mancava tutti i padroni c'erano i trattoristi i camionisti i contadini ora sono anche noi bravo grazie don mario e quindi ecco come è nata questa benedizione perché nel mio gruppo di enduro prima sempre quindi è nata questa questa giornata voglio veramente ringraziare non conoscevo sangue rombano e ora io suggerirei salutare bravo 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 bravo